Ben ritrovati ad una nuova puntata di Vivere in Salute. Sono con Laura. Ben ritrovati a tutti. In questa puntata di Vivere in Salute parleremo di patologie ma anche di tante donazioni che sono state fatte in questo periodo festivo. Certo, è l'ultima puntata del 2023. Siamo alle vigilia di Natale, albero di Natale e quindi vogliamo fare gli auguri. Certo, auguri di buone feste a tutti voi che ci state seguendo, che ci avete seguito nel corso di quest'anno. Buon Natale a voi e a tutte le vostre famiglie e ora dal naso al polmone. Un momento sempre qui a Domodossola dedicato alle patologie respiratorie. Un momento di approfondimento sulle tematiche collegate al naso e al polmone e quelle che sono le evidenze cliniche di queste patologie correlate ai polmoni e al naso. Allora, quali sono gli obiettivi di questo momento di confronto? È un corso molto interessante perché coinvolge molti specialisti di branche diverse, dall'opneumologo all'otorino, al medico internista, al reumatologo. Ma soprattutto coinvolge i medici di medicina generale perché sono loro che per primi devono approcciare il paziente, sospettare la diagnosi e poi indirizzarla al medico specialista. Quindi è un lavoro di team multidisciplinare che coinvolge tutte le figure professionali per la gestione ottimale di questi pazienti. Possiamo elencare brevemente quali sono le patologie correlate a questo tema? Le patologie di interesse vanno dalle riniti e dalle rinosinusiti all'asma bronchiale, allergico e non allergico, alla sindrome delle apnee notturne e tutte queste patologie o ciascuna può condizionare l'altra, possono associarsi e quindi è importante controllarle perché un paziente può avere anche più di una di queste malattie e l'una condiziona l'altra. Trattare tutte e due aiuta molto la qualità di vita del paziente. Quindi se si ha il sospetto di soffrire di una di queste patologie bisogna rivolgersi principalmente al medico di famiglia. Direi di sì, è il medico di medicina generale che ha il polso della situazione al quale viene il sospetto diagnostico di una di queste malattie. Il medico di medicina generale manderà allo specialista che poi si confronterà e indagherà e farà la diagnosi corretta assieme ad altri specialisti perché ripeto l'approccio è spesso multidisciplinare. Non sempre in queste patologie si interviene chirurgicamente, c'è anche la medicina. Certo, per fortuna la medicina ha fatto dei passi avanti e specialmente in alcune di queste patologie ci sono nuove molecole messe a disposizione dalle case farmaceutiche. Mi riferisco in particolar modo all'asma severo dove nuove terapie hanno migliorato enormemente la qualità di vita dei pazienti. Nel campo dell'otorino ci sono delle patologie nuove, lei spiegava la poliposi, che cos'è? La poliposi è una delle estroflessioni della mucosa a livello delle fosse nasali, quindi a forma di polipi. È una patologia che si è sempre conosciuta, però l'otorino-laringoiatria la trattava con due armi, la chirurgia e la terapia corticosteroidea. Oggi abbiamo a disposizione un'altra arma che si chiama terapia biologica. Il biologico è una terapia di precisione che va ad agire sul meccanismo d'azione della formazione del polipo bloccandone la crescita e quindi dando al paziente una vita quantomeno sociale accettabile. Perché quali sono le conseguenze di questa poliposi? La poliposi ti porta da un grosso impegno a livello sociale di qualità di vita. Quindi riduzione della qualità del sonno, impegno lavorativo, sportivo, assenze dal lavoro, gli ospedali, il pronto soccorso è continuamente impegnato per trattamento dell'asma, delle comorbidità, perché la poliposi è associata anche a delle comorbidità. Quindi oltre all'ostruzione nasale, l'anosmia, la disgeusia, sono associati anche i sintomi delle comorbidità. L'asma, la ridine allergica, l'esofagite eosinofila, la dermatite atopica. Quindi agendo con un solo farmaco, agendo sul polipo, si agisce in contemporanea anche sulle comorbidità. Quindi il paziente stando meglio, impegna meno il medico di base, impegna meno anche i pronto soccorsi. Quindi si ha un vantaggio sia a livello sociale, anche di spesa economica sanitaria. Allergie alimentari e intolleranze alimentari e allergie. Nei pazienti spesso queste due patologie, credo siano, vengono confuse. Che differenza c'è? Enorme, sono due cose completamente diverse. È molto difficile far capire all'opinione pubblica che sono due cose veramente diverse. Le intolleranze alimentari sono un calderone di cose diverse, in realtà molto rare. Spesso, quando arrivano da me i pazienti, perdo la mezz'ora del tempo della visita per spiegare che non c'è indicazione a fare i test per le intolleranze alimentari. Che spesso il paziente è convinto di avere un'intolleranza, ma in realtà ha delle altre patologie. E anche, diciamo, negli ultimi anni l'intolleranza alla celiachia, non si parla neanche più di intolleranza. È una vera e propria malattia. Quindi sono due cose completamente diverse. Noi ci occupiamo di asma. In realtà è un po' una moda. Se va in un ristorante e chiede quanti hanno problemi, alzano tutti, quasi tutti, la mano. È molto meno frequente in realtà di quanto non si pensi. La cosa importante è che si dica e continui a ripetere che i test per le intolleranze alimentari sono pochissimi. È inutile andare in farmacia a spendere i soldi per fare dei test che non servono tendenzialmente a nulla. Invece parliamo di allergie che sono sempre più in aumento e anche il vostro lavoro, credo, sia sempre in aumento. Sì, assolutamente. È una patologia sempre più frequente. Pochi minuti fa la collega in sala, che è una pediatra, diceva che è aumentata proprio la prevalenza anche nei bambini, soprattutto dell'asma. Ed è che è una patologia poi in realtà cronica, che va seguita nel tempo. Quindi, assolutamente. L'allergia alimentare in realtà è una patologia rara, che può dare delle reazioni grave, ma rispetto a tutta la convinzione che c'è dietro, molto meno. Mentre invece dell'asma se ne deve parlare anche di più. Per capire se un soggetto allergico ci sono dei test. A che età bisogna fare questi test nel bimbo? Anche lì la parola test mi fa sempre paura. La diagnosi è sempre clinica o con altri esami. Per esempio penso alla spirometria. I test si possono fare anche nei piccolissimi, diciamo dai tre anni in su. Spesso sono negativi, per cui non serve fare i test. Serve fare una visita o pneumologica o allergologica o otorinica. Dei consigli ai soggetti allergici? Dipende dalla storia del paziente, per cui è difficile. Penso che la cosa importante, se sei asmatico, è fare la terapia. O comunque essere seguiti nel tempo. E c'è familiarità rispetto a questa patologia? Certo, assolutamente. Siamo tornati in piazza Mercato a Domodossola per cominciare a raccontarvi delle donazioni di queste settimane. Donazioni che sono state fatte ai nostri ospedali. Ospedale di Domodossola e ospedale di Verbania. Al San Biagio in particolare è stato regalato un retinografo. All'ambulatorio di diabetologia, un retinografo molto importante perché permette di fare degli esami direttamente in diabetologia col supporto dei medici dell'oculistica. Cogliamo l'occasione anche per ringraziare tutti i cittadini, le associazioni che nel corso del 2023 hanno donato attrezzature e anche risorse economiche all'azienda sanitaria. Dall'Ions Club Verbano Borromeo è un'importante donazione per lo screening della retinopatia diabetica. A che cosa serve questo strumento? Come viene utilizzato? Quali sono i vantaggi? Allora, serve appunto a screenare, a trovare i pazienti che hanno questa complicanza. È una terribile complicanza della patologia diabetica. Colpisce i piccoli vasi della retina e nell'evoluzione porta a cecità. Ha un'importanza perché la patologia diabetica è in aumento esponenziale negli anni. Eravamo al 3% 20 anni fa, non ne parlo di tanti anni, ora siamo al 6. L'anno prossimo, fra qualche anno, aumenterà ancora di più. Se facciamo un calcolo dei pazienti diabetici della nostra provincia, le dico, ci sono circa 12.000 pazienti. Su questi 12.000 pazienti, i numeri sono terribili, 15-20% possono sviluppare negli anni retinopatia. Non tutti in cecità, ma retinopatia. Quindi ipovisus fino a cecità. Per la cura della retinopatia la prima cosa è il controllo ottimale della glicemia. Ma trovare una retinopatia è segno di rischio di complicanze negli altri organi. Quindi rene, cuore, piccoli vasi, grandi vasi, aorta, coronarie. Quindi è un indirizzo. Trovare il paziente con retinopatia significa attento, diabetologo. Quel paziente va visionato, va controllato anche su altre patologie, anche su altri organi. Oltre che avere il giudizio dell'oculista per dire questo paziente passa in carico da me perché ha questo elevato rischio, questa valutazione, questa terapia. E screening. La patologia diabetica evolve negli anni in maniera subdola perché la glicemia non dà disturbo, se non ha valori molto bassi e valori molto alti. Subdola, ma con gravissimi danni. Ovviamente c'è una stretta collaborazione tra diabetologia ed oculistiche. Allora, come l'oculista poi interviene sempre attraverso questa macchina e come sempre questa macchina facilita anche il vostro lavoro? Diciamo che il nostro lavoro è facilitato dal fatto che non dobbiamo vedere i pazienti. ma valutiamo un esame fotografico che ci dà ragione di come è la retina di quel paziente. Qui innanzitutto abbiamo un minore afflusso di persone che vengono per l'esame del fondus presso i nostri ambulatori. Quindi saremo in grado di poter, diciamo, in un gruppo di fotografie arruolare quei pazienti che effettivamente hanno bisogno di un approfondimento sia diagnostico e in alcuni casi terapeutico per curare la malattia della retinopatia diabetica. Quindi naturalmente lo screening ha due funzioni. Innanzitutto quello di fare una diagnosi precoce. È stato visto che una diagnosi precoce riduce del 90% i danni della retinopatia diabetica nei primi 5 anni. Quindi quello ci aiuta a essere più efficaci anche nelle terapie che oggi abbiamo a disposizione. Nel stesso tempo abbiamo possibilità di poter ridurre i volumi, come ho detto, di persone che aggiungono presso i nostri ambulatori. Quindi di dedicarci effettivamente ai pazienti che hanno bisogno delle nostre cure. Nel stesso tempo i pazienti che non hanno patologia retinica diabetica sono stati presi a tempo zero. Il dottor percentino rivaluterà nei tempi scelti qui da lui. Se qualora dovesse cambiare qualcosa abbiamo anche un dato che ci dice che le cose stanno cambiando. Un dono del valore di 16.500 euro. Perché avete deciso per questo service? Ma per i Lions la vista e tutto quello che può essere attenente alla vista è una prima scelta sempre. Per me, che sono un medico, che ho lavorato tanti anni in ospedale a Domodosso, anche nell'ospedale di Omenia, di Verbagna, è diventato quasi un modo per lasciare un ricordo di tutto quello che è stato fatto. È un'opportunità grande per migliorare la qualità del servizio alle persone. Il servizio alle persone consta di tanti momenti e il momento principale è quello di portare il paziente a essere da subito individuato come paziente a rischio o no di avere certi problemi e se a rischio o addirittura con certi problemi di poter essere curato il più in fretta possibile. Massimo, continuiamo a parlare di donazioni perché la generosità di questo territorio è davvero importante. E dove andiamo adesso? Adesso andiamo in pediatria a Domodossola, all'ospedale San Biagio, dove vi sono stacche delle donazioni, donazioni del gruppo Arsciol di Vagna, che è una frazione sopra Domodossola, e del cantante della solidarietà. E poi andremo a Verbagna. Per, anche in questo caso, una donazione dell'associazione Carabinieri. Dal gruppo Arsciol di Vagna alle Formiche Rosse è una bella donazione al punto nascite di Domodossola. Un centinaio di pezzi in tutto, parliamo di copertine, sacchinanna, cuffiette e babbucce per i neonati, ma perché questa donazione e quanto avete lavorato? Allora, questa donazione avevamo capito che avevano bisogno della roba, dopodiché io ho parlato con la caposala e abbiamo fatto questo progetto. Quando l'Asla ha detto ok, ci siamo messi all'opera. Tutte le donne hanno aiutato, chi faceva le copertine, chi faceva i sacchinanna, chi le babbucce, e poi anche qualche volontaria che sapeva che stavamo facendo questo progetto, però questo progetto ha durato mi sembra da novembre dell'anno scorso. E noi siamo stati felicissimi di contribuire a questo progetto per la maternità di Domodossola, dove sono nati tutti questi bei bimbi e speriamo che ne nascono ancora degli altri. Questa è anche l'occasione per fare un po' il punto sulle nascite di quest'anno, visto che siamo a fine anno. Bene, i dati questi di novembre del mese scorso danno un numero di nascite in Asla sulla stessa linea dell'anno precedente, quindi siamo complessivamente a 509 nascite. Bisogna dire che questo non è un dato peggiorativo e brutto, anzi, considerando il calo demografico che viene registrato in tutta Italia, specialmente al nord, il fatto di poter mantenere anche un numero di nascite costante significa che non solo le famiglie qui in Asla mantengono un certo grado di natalità, ma che anche vengono a partorire nei due punti nascita dell'Asla. Dal cantante della solidarietà anche due fasciatoi al punto nascite e una carrozzina per l'ospis. Sì, una doppia donazione fatta dai parenti di Salvatore Fontana, soprattutto dalla moglie Rosa Romeo e dai loro amici. Nel mese di settembre è stato fatto questo torneo di calcio benefico, hanno raccolto i fondi e quindi hanno voluto fare questa doppia donazione, sia due fasciatoi che la carrozzina per l'ospis di Verbagna. Io ringrazio davvero Salvatore Ranieri, che è sempre presente, è già stato presente in altre situazioni, e la famiglia di Salvatore Fontana, che ha avuto questa sensibilità nei nostri confronti. La carrozzina sarà utilissima per i pazienti dell'ospis e quindi veramente tante, tante grazie. Ormai le donazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri all'ospedale Castelli, in particolare alla pediatria, sono un appuntamento fisso. Sì, diciamo che i ragazzi dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, si prodigano sempre per questo tipo di attività benefiche, soprattutto in continuazione della memoria del Cavaliere Mario Ceti, scomparso due anni fa, il quale era particolarmente attento a questo tipo di attività, ci teneva particolarmente e quindi giustamente i colleghi hanno preso in mano l'eredità e hanno portato avanti il suo spirito con questo tipo di gesti che sono sempre apprezzati, chiaramente, e per i quali veramente l'arma dei Carabinieri dà assoluto merito e plauso ai ragazzi dell'Associazione. Un gesto che renderà più lieto il Natale dei bambini che purtroppo saranno in ospedale? Sì, è un appuntamento ormai tradizionale questo con l'Associazione dei Carabinieri, loro ogni anno in memoria del loro coscritto che non c'è più fanno questo gesto di donazione che è molto gradito dai bambini, ma soprattutto accompagnano un gesto di donazione verso i bambini con sempre qualcosa di utile per gli operatori, per l'assistenza. Quest'anno ci hanno portato delle bilance di precisione che sono degli strumenti semplici, ma molto importanti per la gestione dei bambini piccoli, neonati, e che naturalmente devono essere di qualità e precisione perché si tratta di strumentazioni mediche molto delicate. Ne avevamo bisogno, siamo riconoscenti come sempre e noi come abbiamo detto pensiamo che anche per i bimbi la presenza di queste persone che rappresentano questo impegno sociale, professionale così importante per la nostra collettività sia un esempio da continuare a coltivare perché vale la pena che venga seguito. E quindi è molto bello che loro siano con continuità dentro in questi nostri ambiti. Massimo, siamo così arrivati al termine di questa puntata di Vivere in Salute? Siamo arrivati al termine, siamo arrivati al termine di quest'annata 2023, speriamo di essere riusciti a trasferire le informazioni che servono e che riteniamo utile per i cittadini, per gli utenti, ma anche alcune notizie sulle donazioni e sull'apertura anche di nuovi servizi presso l'azienda sanitaria. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia e buone feste! Buone feste a tutti, buon Natale e arrivederci al 2024!